un secondo solo siamo in live eccolo lì il tuo fagiano Mr. Black Only Games è dal vivo ora dal vivo signori vuoi della miniatura? eh la devo caricare un attimo il tuo fagiano fagiano eccolo qua sto caricando è a posto salva modifiche l'ora di educazione fisica che si scarica di fatto nel suo aglio adesso stavano andando da ah? ma com'è? cioè fa un po' schifo ho visto un po' la grafica ambico fa un po' schifo no neanche tanto c'è la bocca ancora che è sul mobile c'è appunto no non me la carica ecco eh se la ci metto un po' di tanto ok due spettatori io e io le due che non hai spammato ancora no infatti mosto spammato il marons no no 04 il mar ah bella per capisci chi sono lo so chi sei sei carlo ok a me verrà caricata la miniatura a me no il tuo fagio aspetta provo a uscire che entrare boom invece ok eccolo lì comincia lo spam me la caricata me l'hai caricata si cioè in realtà è inviato il link e ci stava si c'è la cosa il tuo fagiano pantacalcio però ti non gioca che si vuole pantacalcio pantutrido pantami ti dai po' beh beh il palo ha scritto tienimi un posto eh no ma siamo il tuo fagiano non ci può essere un posto non possiamo tenere un posto siamo il 2 poi devo chiamare il trio poi devo cercare un trio un terzo fagiano e chiamerò la line ma la prossima volta fa il trio fagiano perchè non mi sono sfonda le vecchie non fagiano io voglio fare ti fai giallo però io posso fare tazza sanzia alattata alerco baleano adattes su banzo a poco fa come fa ticci metterla face peccato non la posso nel mio burro oltre la riteniamo acqua o adatto se non ci scendo mai la preghiant non ho scherzo parco non abbiamo artigiano io posso parlare a un buon no asiccati per favosti e cerco lì mamma nenne 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 ma te l'ambiata la clip quella che ho fatto un bifurco ma ci l'ho vista ahahah erano di senza mani push a fanno un bel esame raro la quarta per queste cose si possono fare io vado alla casa attività la mia apropositi gilio dai 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 belle 16 erabe cvam botta di gente alla casa serio andiamo andiamo a tavola quanta gente boh io vado vai al casone rossi io la do a fianco al tuo dimmi che c'è la cazza no no fra zun 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 io un vampo un vampo è tanto rancore ok ci stanno scannando ok è un vampo qui ti abbiamo vinto una partita che avevo chiuso uno e tipo se sono andato dentro la nuova traffa e allora io ho fatto il nostro così oddio bravo ah io ho fregato la kill stanno al casone si arrivo arrivo ah io ho fregato la kill c'è un altro fuori oh mamma mia dove sta dietro l'albero c'è pure a sinistra dalla casa sta sparando dalla casa ma gente diversa sempre gente diversa la famiglia oggi non ho fatto la nostra cittina se si è la vista la pista animali i quali per gli animali no 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 oddio la vita e per gli assai non ho visto un po' passato metto ma vedi si arrivano ci si mi sa che ha ucciso quello là con questo attacco a per chi lecce pure un attacco sta entrando tu sta parlando con me preso preso balla balla come se non è ben di qualcosa la mia moglie a mano dove stai? dove stai? non dovessi tu vende pozzetta tu piedi la pozza no e doi vi entro e vi entro e sta distante vai vai curami curami veloce ce la fai ce la fai ce la fai sta arrivando ma ce la fai sta qui eccolo ok sta qua ma passa arriva no ma passa no ho sparato stai davanti tu colpo 69 69 69 60 non lo stava un fatto di gente non ci va a curarmi la pace ma basta oh di che da pace che no perché il duo fagiato non ci può essere un terzo aspetta un attimo scrivelo sul gruppo che non c'è il telefono a totale di meno basta mo lo blocco sono pure in due con chi sta non rompere con chi sta fammi vedi fammi capì sta con z rain no scherzo no scherzo sta quanto pop 45 mamma mia oh metti pronto siamo io e pop no no però una partita ce la dobbiamo fare solo una solo una poi li cazzi si è ancora peggio ma è scrivito il re del giro mi scrivo quando si chiama ironia c'è io ci due fagiati ironico arrivo io volevo scioppa sexy da matti ero tipo in un conflitto interiore poi alla fine mi sono dimenticato devo spendere mi sono dimenticato che sia falu sei triste eccomi sei triste c'è la testa abbassata dopo arrivo ha detto matti lander 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 l'età è una casa casa cc ci sto spaventando nessuno si speriamo mi sa di no mi piace questo look mi piace io un po' un po' e' una e' un po' un po' alla trappola l'altra trappola modo e' una revolta c'è un pistone e' il dico lì un spacco tutto se tu che scondico si ti c'è c'è la cesta qui no questa che era mitraglietta no 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 a pompa verde ci sta spiatelo forza grande no no c'è un po' c'è un'r per non solo il pompa blu c'è un pompa c'è un r grigio normale per caso le pozzette oddio c'è due pozzette grosse vado alle verdure vado fu il scuso io me lo tengo, sicuramente trovo le pozzette ah io quello ve lo fai io però poi trovo tanto scudi grossi ballamico boh non lo sai no non ci sta entro non ci sta niente oh che casuola c'è parecchia roba c'è solo una cassa, le griglie poste c'è una di coloro e le granate impulse come le preglie e' un po' di santo, ma volgo bislac 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 bordo ma dalla casa rossa casa rossa no è lungo no oh scarsione c'è andato scarsione no 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 non ci sono andato io l'ho trovato a caso si è nella casa si è nella casa uff al depozzettano vado fuori lì 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 4 questo è andato spallo va bene forse la ciasa ok ci sei ci sei no non sei ma non si può rendire un voto la vostra volta la scelta in borsa si trova su spazio c'è stato sceso pure caruccio però cd le prese se c'è la cassa a 60 60 60 60 ma le ho viste no non sta qua non sta qua preso presi una donna me ne fregavano vite colpi c'è una pozza grande cosa vuoi allora posso dire manco io la posso fare un pompa blu allora voglio il pompo che non ce l'ho le pozzette le pozzette le pozzette le pozzette le pozzette le pozzette quante quante magic 2 ne ho allora vuole bene qualcuno aveva lo scarro di tu che spero di mare che spero con le scar allora avete delle cose blu al secondo gli tiravo un colpo si praticamente due l'amore io l'ho dove la casa sinistrava da questo test ma che palle auto che hanno cambiato il fatto degli alberi adesso spuntano dal nulla c'è fanno tipo v sembra che ci sta sempre un nemico questo è un po' il nostro portano carola e magari scarletta un po ma detto è magari un sbagliato un guarni anche per lì stanno le sono mai detto po arrivo se la coppola se testa cadenta sopra sud testo ma ecco michele granata ok in una serie un po' lontana c'è il cecchino qualcosa si ma meno male otec c'è un viola buon bar almeno una copertura da lontana c'è quale luce c'è la cassa c'è stato che non sono venuti qui un buon mai sull'angelo anzi sto pagato lì pozza grande io l'ho lasciata una lì di là io due di gioco domani stampa bella per giù scrivendo forte per il cellulare a macerare c'è la ipo c'è il cecchino cecchino è automatico per però non lo butto lo prendo perché vediamo la sicurezza in più questa casa è piena di loot si è l'uomo c'è da andare io me ne sto sto arrivando lancia granate perfetto così poi c'è un altro medici troppo va bene attreggio lei che ci stava una cosa di viola bella per peter anche stava pesante però mi fanno colpire il cecchino andiamolo si sto andando oh è gay perchè vi offendete quante pozzette hai? 9 e devo cercare ok c'è un lotto assurdo perché ciò c'è un c'è un botancio non ho messo dietro 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 sta dietro non sta guarda la giocciore sta guarda costruisci di sa costruire no, da io vedi inizio i fini scappa scappa sotto un po' di farlo ah l'ho visto fermati sta scappando sotto ok è morto ok vai vai io me ne stavo scappando prenditi le potete e poi ti do la pozza grande eh io guarda dove sto ah lo so ah infatti beviti una pozzetta ah si me ne porti c'erano due ok sulle mie cioè era solo uno era un faggiano questo è il due dei faggiani stava safe ah 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 quindi tu stai ah quante kill è una oh calco no non è plegato ah 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 qui io l Berry ma ecco l'ho visto mai ho fatto distrutto c'è un'altra misura su non ha amato subito ammali due sullo scarto si sfondato ha salutato questo c'è chi non lo prende dietro dietro da sopra 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 via 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 no no che pomme via 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 mi sto scappando via 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 fatti un mezzo fortino scappo io sta sfondato eccolo sono pausa busciando ok da qua sopra la città ma l'altro apresa vedrai domini dai c'è un cecchino figo ascolta lumina e qualche pozzetto se in attimo a cosa grande mio un uomo città mi un cecchino figo non c'è un topo anni di collo leggendario non c'è tappi e dire pozzetto da qualche pozzetto quanto vuoi 2 2 pozza grande ce l'hai? è una ok mi dai raggi che hai? ne ho 10 eh dammelo eh li ho visti? stanno a 3 1 1 3 3 no devi sparare sono in due sono nabbi sono non mi hanno non ci sono manco costruiti dove stanno? 3 3 1 3 2 0 hanno fatto un muro tipo ma stanno dentro ah lì sotto si vedi? eh sì vedo il muro ma non vedo lo ah c'è pure gente là sotto dove è là sotto? ah là scapucci ha preso preso l'eittato però c'è il cecchino con la schifosa 45 tipo sì sì l'ho tolto quasi tutto è costruito ho fatto un pelo assurdo in testa andiamo 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 sotto hai materiale tu? sì 861 di legno ok ma a me non serve magari te lo davo io a te ok tu che c'hai la slurpy oppure no ah no ma no ma che è mezzo è uno dello scudo stranissimo qui ci sono qua sta salendo 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 pure a 3 2 0 tipo eh sì fatti un muro fatti qualcosa non c'ho fatto devo capire dove sono eh sono stanno stanno pieni uno mi sta sparando da sotto poi non capisco dove forse lui no ah ma è stato vieni vieni veloce veloce forte eh stanno non ci push no no stanno lì stanno lì non push no eh tu fai tu fai tu fai tu fai no no mi devi fa no questo è a boston arriva diciamo beh lui stanno qua no è morto eccoli stanno arrivando è morto ciao 200 ma non era però sono nascosti come il lucetto leo col cecchino ma don ho scattato il raccato lo zainetto che zainetto? quello zainetto che ti potete mettere dietro? ah capito non me lo metto non potete morire così eh angelo di bucci ah purtroppo sempre alla sprovvista ci colgono invitatemi ha detto mattia c'è l'invizio ma sta online devi invitato cioè parti private eccomi capite in vita mattina ma poi il tuo paggiano se ne vuole paggiano rip non può almeno lui è forte sblocco il posto che adesso non posso invitarla eh non posso però sblocca da un musico attività metti però tot giocatori 4 o 3 no 3 che qua eh andiamo ah aspetta che devo mettere 3 sono andati po' a corso con merce ehm corso ma io l'ho invitato ok mi vado a corso mi vado un'altra volta per sicurezza ok ah boh ma sta al party cosa non ho l'ombrello ah 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 ok andiamo a mangiare andiamo alle case ah boh ma ho messo pure il party libero quindi vendrà anche da te c'è un trampolino qua c'è una cosa di gala qua trampolino no so caduto no perchè la mitraglietta pozza mi lasci qualcosa per favore è una pozza grande è una mitraglietta con due casse che hai aperto lo chiudo io ma ho messo 3 di 3 stavo a uscire se non piove tantosi piove ho smesso un po' allora ma facciamo non so se c'è qualcuno un tot perfetto ma ci stavano ci stavano se tu sparo metto sul computer la streaming nella bar senza volume così vedo i commenti ok ma boh li vedo pure io ce l'ho a fianco il pc e lo so ma così due volte alle pesce a mano quando ci quando si impegnavano pure tu sei uguale no eh io che mi insieme fino eh ma stai a giocare adesso posso vedere il mio nome che mi appare la sulla playstation quando come vuoi mi lo è che siamo così divisi sesto scatti la l'area scambiola si ciò lo scambiola o 3 3 di fila uguali l'unico l'altro vuoi che ho capito che mi lamentavo che non ce l'avevo però non datemi ne tre uguali di fila e quali le bozzette eh uno si no è bravo cioè stai fu il dito gombolone dove stai? ah stai l'altra casa questa casa è lootata no domi sta una pozza grande qua c'è la porta c'è la porta c'è una pozza grande sì ma c'è la porta al negozio no eh stai a portare? sì altre pozette le porto io le pozze lu prova a tirare un tipo una hit al camion gelato c'è un'altra pozza grossa quindi se la puoi portare la puoi portare? io ah io no perché ho due medikit e il bombolone potrei perché è uno slot libero è forte questa è la cassa sì sì qui pure c'è la cesta dai titolo il medici che ti dimmelo da me posso portavano c'è un c4 schifo ma che ne stanno vicino attivano l'ultimo video di tommy su ninja perché? perché posso spiegare sempre no solo su ps3 un gioco ah ambiguo va indietro nel tempo ci ha messo tutte le clip che ha messo all'introlusi magicamente ti sei quanto se tu hai fatto quelle più insane vado a R verde io c'ho una R viola lo provo a attivare un col posto camioncino vedi qua dico quanta vita ho da quanta di vita ma l'ho vista tipo ma è lo scaroro o lo scarviolo? scarviolo andiamo veloce veloce via ho visto una challenge su youtube tipo distruggere mi rilassi l'hanno fatto l'altro giorno mi hanno detto ci hanno messo 7-8 minuti ho l'uso non lì ah dove? sul tetto davanti a me a n si ho visto uno è sceso ballo lo scapocciato ok c'è la pozza io grande poi si sono qua è sceso è sceso pure lui un gioco pagiano a terra praticamente uno sta di fronte a terra c'è uno lascia me lo sai come sto fa la place no beautiful place let's go quella pozza grossa sì no c'ho il bombolone ok 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 comite colpi dell'aereo switch dal bomba poi il bomba non li va in palo quindi è switch ad ora amico e poi sono arrivato io ci penso a tutto il punto ma io ho fatto 18 minuti di accontentare una volta stai zitto a giocare a gatti quante chi l'hai? diciamo ha fatto una partita con 18 kg qua di prima no no ma che era fatto in generale non so quanto tempo fa un single eh ma siamo random ma che è sto là luca aiutato un botta minchia scarro c'è pure il cancer ha tutto cialo o caccia pure il cancer non ha pure gli altri paga alcune voglia mi dice il po' visante ma ma ieri che ma luca ha rubato tutto quanto tutte tu sei fatto dieci ma ho fatto tutte le chili hai fatto dieci chi? no la partita prima la partita prima la partita prima ah sembra lamentato uff gli ho mandato a dire dai dai però a meno che il loot buono ci avete eh quello è sicuro qua c'è una cosa viola il loot buono c'è sempre il te come c'è una c'è uno scar c'è scolato nel loot lui magari ti esce ho già trovato due no fino a morire ho trovato due scarbiolo che cosa minchia è una pistola una luison e noi lo andiamo in safe si sta prendendo la cassetta con la figa c'è matti il loot a lui che c'è un loot meglio di me e non loot io ah li ho visti c'è pure quattro pozzettine alla capannetta la capannetta di di porcellini comunque è persona che è fighissima anche se è gratuito è fighissima mamma mia vieni lui vieni corri non ti perdere in chiacchiere guarda manco mi è già affaitata solo così quindi non mi fotti le kill poi muori così c'è un profilo maxato cioè faccio uno scarso aspetto a te oh chi è che mi spara oh da dietro mi sa oh chi è che mi angulo ah madonna mi è dal tetto del magazzino ah bo andiamo non c'è niente sa uno qua davanti se non c'è un po' di allenamento appena con le pendenti tanto che bravo gran il 26 lui questo l'ho perso di vista non so dove sia arrivando mi sa che era pure da solo stava qua cioè qua a scollinato c'è chi non è no non perde non le vede se stava quello là di ma quello stava distantissimo eh quello però lo rincontreremo prima o poi ma che ho visto eccolo là l'ho visto dove è sta saltellando verso Acri verso Acri 3,30 eh sto ancora un po' indietro sta mirando hai visto? ma sto ancora un po' indietro dietro quell'alberone adesso l'ho visto adesso l'ho visto 3,40 facciamo? eh siamo troppo distanti cioè quello si costruisce vieni tu c'è pure l'aerdrop che ci cade in testa quello sicuramente va all'aerdrop vieni 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 sì per forza è troppo poco studiato per scontare oddio ma non andami a 60 c'è un fortino assurdo però noi stiamo comunque nel mezzo della safe ah no non ci va l'aerdrop sta andando via a boh io vado all'aerdrop siamo al centro in 24 è pericoloso lui hai visto la 75 che ci sta no c'è un mega fortino stanno a 5 più strano guardia ancora se non è attraverso il motello sta scappando a boh fa niente ah ah ma hanno visto si ci sta una spara vabbè facciamoci attaccati ma dai dietro 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 dammi dietro 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 mi hanno sparato no che sfiga è caduto sopra l'erdrop ok tutta sta fatica per una minigun 100 di danno dai complimenti no luce guarda che forse erano quelli da 75 ci sono da dietro perché ho visto il segnalino del danno ah ma sei bagazzo lui sono 75 là li vedi si le ho visti là però c'è il segnalino del danno da dietro stiamo in safe non so pure loro ah ma facciamoci un fortino ah io già l'ho fatto faccio più altro ci va sotto mulino a vento non abbiamo un cecchino no dimmi tu come lo facciamo a fightare con la scar c'è la scar si c'ho la r verde ah buono io però ho un entrampolo oh con la palestra mi spara è un pazzo ti hai visto beh devo fare mi devo mettere in muta eh hai sceso sceso st al fortino basso è solo uno no sono due hai visto là hai visto là hai otto dietro dietro ce n'è uno dove anche colpo coppia poco amo un faggiano ma 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 si male quanti colpi di arti 2 e 27 hai da me qualcosa 80 ne ho eh vabbè son loro si e un trampolino per scappare scappiamo vai vai andiamo da quella che stava da solo vai eccolo ciao ma era uno si si è uno è stato sta pushando sta pari cambio sto sotto eccolo l'uso sotto di te ho visto aspetta che salgo fattolo per favore c'è lo scar per i fieti sto scar si si che la propone ottimo ladro bello vedi se arrivano quelli la di prima no dove sta lo scar where is my scar quanti colpi hai 286 ah io non 133 lui qua ti vuoi portare qualcosa ah slurp ho messo già la forza grassa la forza grassa la forza grossa o la slurp eh la forza grossa a solo più me la bevo si la sprago mi hanno un po' di colpi sessantino ciò materiale come stai messi 231 di legno e poi ho 90 di eh mi dai tipo un 40 di legno mi sono messo malissimo grazie grazie allora noi siamo in due quindi 7 quei due stanno là che le siano ah lui ce ne abbiamo uno qua davanti mi sta osservando dietro l'albero a 195 la dove sto sparando eccolo sta dietro la collina sta eccolo visto usciamo lo pusho sì sì hai lo spai è morto hai sono morto di via oh bello prendi lo scaroro dai te lo lascio mi bevono ottimo il bombolone si potrebbe esserci eh stanno sopra il tetto coprimi a 111 hai preso materiale Lu? aspetta ora si ne ho 150 ah no scusate ne ho 489 ne ho 489 di pietre eh se passi sotto eh sei sopra quante colpi hai? ehm 566 eh dammi 154 passo sotto passo ah boh ho spaccato vai ok è un po' di materiale buono vendo malebende è nato scarbo ah sono sopra il tetto 114 andiamo in safe che dici? c'ho il cecchino io pure buono poi colpi quanti hai? eccolo ma dove stanno? stanno a 114 li vedi sul tetto? ah eh si li vedo a occhio nudo andiamo in safe aspetta ah no niente ehm che ti voglio dire ci avranno quanti colpi dei cecchinoi? 40 ok ma voi c'erano pochi bisogna venire di più e la metà la nostra fortuna comunque stanno vedendo con qualcuno ma buono fatti fatti toni no di copertà infatti gli stanno demolendo tutto ciò arrabbiato che ne ho fa dimmi tu stiamo ai bordi faccio una cosa prendo la minicon ah ok ok rimanificata prendo la minicon nel dubbiamo i colpi piccoli che hai tanno coi di fronte noi davanti ecco mi sa che c'è proprio qualcosa di be oh mi sfonda il tasso eccolo è stato morto non mi è fregato un'altra volta mi sa che arriva il compagno è il compagno della casa rossa eccolo sta qua davanti lu si l'ho visto eccolo bello ah sono in sotto pure a me però dai c'è le pozzette c'è le pozzette si c'è le pozzette siamo 2 contro il 2 fra dove stai? sto sopra mi sto a mettere il medic ah li ho visti sono pure fuori safe lì in fondo luca aspetta eccolo a terra 1 io dove sei? ok l'ho visto sta sopra sta sopra sta sopra si lo so lo sta uccidendo se lo faccio col cieco così vai sfoglia sfonda push usciamo 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 non bisogna un po' di roba metto anzi facca le basi facca le basi preso preso vai vai mo ok l'ho hittato non ha scudo questo no no matti guardati il finale vai lui non ha scudo lo distribui arrivo a dire arrivo a dire prati blind dove vogliamo intrappolare no voglio fare la vittoria questo mi fa eh arrivo no 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 ok quindi quale qua ti faccio l'applauso ti faccio l'applauso ti umilia grande grande fagiano is on the way ok bella plant bella pizza quando chi il 5 ha vinto si si dai a quattro mo quitta ok ok la oscia per le sale se rimane così si rimane ok ci farò per andare a casa mia non ti ricordi conti salernitana salernitana tu entra cosa matti passata un minuto questo non sei no no ma come no devo intrattenere gli spiegati dei spettatori sai intratteni parla vabbè dai avviamo domini vai no no sei un tumore eh dai quitta eh certo però se avessi fatto tu no figo eh vinto eh iiii se ma che cerchi sto arrivando ma sei un nab ma chi sta cercando valli io vedo eh madonna c'è un delay di 20 secondi io ho 80 minuti fa eh eh e che ne so completamente eh tu devi toglielo io le ho toglielo che hai detto Luca? no mattia metti il front però il titolo dei faggiani seppur io appunto io ho fatto un piccolo campo ok dai me ne vado bello ciao ok ciao ok ciao ok ciao 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 non si va boschetto dove stava il boschetto bisunto il mio personaggio è molto figo io vado a burga io vado da me ti posso poter cosa delle barche infatti non vado mai alle cose della casa con la buccia non c'è nessuna rossa grande sembra la casa con la buccia abbiamo aiuto pancia l'admi il mio amore è arrivato la mitraglietta blu con la viola però un altro livello grazie non lo troverò mai con la buccia con la buccia con la buccia si ma io poi capo arrivo io non c'è no no abbiamo nessuno a cui sparare c'è una cavità di merda c'è una caccia credo che le avversari hanno paura di me però un bombolone bomba 6 me lo prendo me lo prendo me lo prendo e mi hanno paura di alleati proprio perchè sei brutto di faccia cazzo si hai ragione no vodatemi l'anzi che avete no dopo questo insulto posso mai darti l'anzi io non voglio dire che c'è no dove è che ma che vuoi poi ho i inizio ma che cazzo m 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 si s m 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 ma ma mo lano mac è svolto l'americano e loro roma m raga ragazzo non può essere un nuovo medici che lascia io c'è il medici io volo mai parlare per i miei medici porto io non porto vieni da questo tipo tipo 7 domi inserizie devi guardare assolutamente via quando non ciò non te lo sopporto dove stai tutta al cos'è ma stella sotto per la nostra il medici ha lasciato di fronte a tua casa di fronte ma io non due di medici a class ma io il medici rilascio della sera avanti hai visto lui qua lo so ombra l'ho ma se c'è il l'ho ma se c'è da stavo e allora non lo posso vedere stai dietro a un muro stai tra l'angolo ha visto guarda che il percorso a metà l'angolo non mi guarda allora io sto merito l'opo già c'è un tremendo mondo grande da me cazzo e medici mattino la bozza grande se l'ho te l'ho detto c'è l'ho pietra l'ho già presa c'è la teglia da 50 di vita il cinema cinema discute ed è stata matice tanto che ce l'ha però non la beve assiccino che non ce l'ho l'ho bevuta già da questa a ma ma e capite il tempo e eccetera ah io pensavo alla chiesa qualche parte però lucia di lo qui ahahah 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 caravano a tirame le posso portare invece no le pozzette togliamo scherzando coeranzi ci aspetta è stato alla penna della tua pozza inutile pozzette abbonata io anche pozzette stanno luca guarda cosa ti do andai in safe come faccio a vedere se stella domani ti fermi un secondo domani ti giri cioè lui ti giri dottore no guarda io ho perdato a streaming dal cecchino le soldi cccos non mi vuoi raggi ci aspetta solo danno co ben sei ma non c'è il tempo per andare in testa parliamo e non è che siamo obbligi e' vera e' che sta spaccando con una bella non direi no mi ragazzi ti ascio qua guarda 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 quanti sono 4 mi sembra ma ti tu quanti raggi hai 0 ci siamo andati in acoli e ce n'è no ne ho 0 domenico ci abbiamo dentro a pinnacoli li uccidiamo no no e' come facciamo ci dobbiamo passare si ci passiamo sopra troppo i pochi laggi immagino solo 19 domenico ci abbiamo di fronte a noi che facciamo ci passiamo sopra ci passiamo sopra io le schiacciamo ok allora seguite spera che ci uccide da male lui se provo a sparrare ti taglio le mani ah chi spara eh stanno pure di fronte a noi stanno salendo sul monte ce li ritroviamo davanti questi davanti oh gli shit eccolo qua si l'ha visto? ah ci ha visto eh ci ha visto la mattice l'hai sopra mattice l'hai sopra uno sta pure sotto ma come cacchio costruite? ma dove sopra? stava salendo c'e' uno sotto che l'ho visto cavolo sì uno sotto ma ho visto pure a me eccolo lo sapissimo ma era fateli voi siete forti sono due ma è stata lo sfondo la canzone 4 preso picchia c'è la sgurpa bombolone no no ma ti bevi di prima potete le pozzette matti c'è il bombolone se ti lo porta io lo posso portare e portalo ma che la saf c'è un r migliore c'è un r migliore io dici pozzette matti eh vabbè io c'è 10 metri c'è 10 metri 10 metri c'è 3 metri io 3 metri ciao ciao siamo pieni di medici matti ti prendi 10 metri ci cambiano i materi che ti prendi e invece no io no giusto giusto venti l'anno per favore no non voglio perderlo ok non vuoi perderlo voglio far vedere verso la dignità quale mi è singolare come la mamma di metti stanno di fronte a noi 100 a 100 transano facendo delle scale tanto una sponda dell'aolo sniper sta salendo sopra sta ricadendo lo sniper no perché c'è la mira bucata c'è la mira bucata c'è il spot bucato quello si vabbè quello è rotto tanto dove sono non so stanno là però spara sempre la stanno ho chiamata dietro che stavano a pinna lui no ma quelli che decidi te erano in 4 si erano 3 e come hai fatto uno ucciso io l'altrivo si due giocano un gioco capito ho messo a terra ha messo per essi perché messo a terra poi ho finalmente eliminato come noi stiamo facendo gli user in post per arrivare a calla ma grande romei grande mi raccomando ah non stanno costruire mi raccomando si si infatti si quello costruiva a casa parica ecco li stanno andando alla casa centrale del lago è un serio vado vado spagli si chiama forte ma perché lo fai apprendere andiamo via andiamo via andiamo via non infatti sto andando via lui che spara comunque del magazzino si la casa non sui tetti del magazzino mucchio volevo provare a uccidere che c'ho il ecco hai visto mattina l'air colmino viola uno sta sotto ragazzo hanno due sotto escono dal magazzino grigio non ce l'avevo proprio davanti dove sparare è certo aspetta aspetta oh m'hanno visto aspetta il cacchio m'hanno visto sono un scarco solo 31 lo è stato quello dentro uno sta a destra c'è un altro a destra dietro al camion dietro dietro forse no no l'ho perso da dentro e sotto ecco la casa scappata dentro dentro il magazzino è un asciutto quello buona ma uno sotto su uno sotto c'è uno sotto mi ha mi ha tolto il coso mi ha distrutto dove sta sotto andiamo andiamo moriamo sopra sopra stavano sul tetto sopra no 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 meno meno sta rialzo sopra 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 preso in testa bella la caccia ma io l'hanno rialzato con vita di merda si l'hanno rialzato se c'è lo scarico ci vado qua c'è il mille quello colmigino viola tanti dietro che c'era sempre con la loot lei e io lascio le rimedi che tu voglio che a noi pompa da quanti vado i medici che tu la c'è no tre io di medici non posso tanti dietro io ho la di luci lake mi ha dato un attimo un po di materiali aspettano attimo adesso c'è lui non ho andato un po di sui vedo io vedo io 700 700 ok io ne ho 100 capi vede di qua la capa sola senti ma si può fare che una chile ho finito tutti quando c'è un giaccio un aggiornato infatti serio sì ci sono sopra la cosa so un po da mi dà la cosa italiana che ricorda ci hanno arrivato però voce aveva davanti invece non è riparato il coso volete vite come si 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 e vabbè no e ora i materiali salvavuolo veloce veloce che avevano ti davanti veloce sì sì io sono un tot pure dietro veramente perché stava sempre quello ok colpi grazie ecco grazie l'ultima di americare 700 non c'è 500 34 330 dr quindi ci stanno qua perché matti infatti è sparato un colpo di ai raggi voi ce li avete sì due a me li sono possa essere essenziali io ho preso pure lo sca racconto eccolo preso no fa tutto ballo ma calato no ragazza si da qui la c'era si sta sinistra no stiamo sopra una scala coppiti matti avevo ritarrato quello oh mi stanno sfondando no sono forti dove sta mi stanno sfondando no mi ha sfondato pure a me sono morto dai perché non ho fatto no 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 che polle luca l'uca butati di sotto se vuoi sotto qua che fallo sono in 40 si che cazzo tutti con lo scar noi no cioè ragazzi non mi faceva tipo il muro sotto infatti sono morti 8 mura sopra però i muri sotto non ci stavano a buonare alla prima come a te esatto portas fio volontario chi ha no dica segnato ecco come scherza fa servita sì godo niente aveva segnato il frosinone quello annullato ah quindi 0-0 come la piatta di mano o fuori gioco eh ma è che non è gollo ma c'è fuori casa minchia non c'è un po' da volo o 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 quello qua qua come la dvd si apporto dai andiamo fa un botte di chi la fa ora da testo vittorino animo andiamo a dire a matti non ho mai avanti grazie perchè albana parco atto matti e grazie che grazie non sei o ca grazie al ca ammita lessius do andiamo da mi io dalla casa rossa ok forse no vieni con il ca vieni qua vieni qua luca mi sono ci sono ci sono ci sono in due e abbia un strafotere fisico ma giù e giù spacca sotto di me c'è qualcuno le case vicine come andiamo appena sono un pinnato oh cazzo arlego tu hai dovrà prise alunio se cat ceremony allora sono morti come ti un po' viola pom filled comunque proprio o ti è matti tradizionamento questo qua arriva magma stavo te c4 tumoraccio ecco lo stacco l'ho visto sa qua dietro c'è una sopra preso o cavolo mi ha sfondato è sfondato il coccige era un e un e su anche lato e dentro è stata dov'è dove acqua matti c'è da me qua sotto metto c'è un altro amico a dirite da me sono morti tutti dove stai luca guarda se la c'è uno qua si sono due sono due so tre come su tre fra ci sono tre sono sul tetto detto e domani cascata dietro attraverso mamma matrimonio il morto forza c'è altro sono preso sotto preso sotto o caviaria morto ora non c'è un po' di tutti no allora come questo non ha nulla un poverino non mi ha fitta la kill grande mattina e manco le romei da l'arte papa a mario rinito niri ma quando è quello ci sono io fa sa le veri le ramirate d è un medicita almeno solo quello vi chiedo no ragazzo un attimo il partito in alto e morire non c'è... l'arma dove quello subito no è anti mi serve c'è torno ma buco ci vado dopo le vende ce le avete copitemi un attimo c'hai c'hai colpi di pompa non ne ho io bisogna dipende eccomi hanno sparato mi sa no mi sa lì no se hai fottuto lui la r blu no nino lui si ma quello là che c'è la r blu era mia la kill sai come è pure tutte le che mi ha fregato dietro dietro ce l'abbiamo mi stanno sparando dove l'u boh sono a mezzare non ce l'ha dentro sono altre persone eccoli oddio 3d no ma non ho fatto sono di colpizio ci stavano 4 non è solo il corso ma ok l'ultima qua dentro dov'è one shot per l'anno r blu vedete tutto con la vostra quanti colpi avete c'è il 200 quando il 16 no hai no 26 200 vieni adesso spartiamo vengono un pochetto e qua dove stai ma dove stai ok grazie grazie bend bend non ne ho eh tieni una ne ho eh pure a me mi servirebbe eh una ne ho non so come aiutare uno l'avete one shotato raga voi che avete fatto io no io 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 l'ultimo l'ultimo eh l'ultimo matticolo c'era 200 di video io ho fatto tre volte 66 non andavo a terra si lo savo anch'io l'avevo detto prima se mettevano se uccidevano a Luca guarda veramente che scriviamo quello che ho fatto tre volte 66 Luca non sa neanche Luca l'ha fatto sempre la via con tre persone dietro è lo skillato mi sono fatto a rivedere la streaming mi sono messo a sparare agli ultimi due quindi ci sono barricati più che andò a push a Luca quindi sono un po' agevolato c'ho le bende c'ho tre bende chi da vuole sono questo franco sono questo mi interessa no non mi interessa non mi prendo come da zio franco ci abbiamo già 9 kill ah le stanno le vozzette ecco oh raga finita questa vado un attimo nel partire la c'è mi devi di una cosa mi sta invitando e vuol dire mi ha detto che era per giocare no no mi ha detto che devo entrare un attimo in parte ho scritto un messaggio ma poi se mi dicevi devo giocare non esco anche la voce ma guarda c'è dei conti piccoli no cioè ce l'ho ma ne 8 c'è te li don te li do la stessa cosa poi c'è la pistola blu mi ha salvato il culo pistola quale è blu la pistolina con la cannone la qsp no con la cannone non esiste blu infatti sembrasse la pistolina con l'asto si ma è forte quella matti ieri non mi è mirato perché stavo facendo cioè non sono andato perché stavo a favore club con gli altri perciò stavo già in un po granate belle c'è granate che posso portare io celebbron si può portarle tu c'è una pozzetta io se volete si mi serve chi la vuole io mi ha dato anche tempo di rispondere non c'è esatto mi dai pure le bene l'uomo una tre poi le porto io se te ne serve solo una no aspetta 5 hai dato tu qua fianco mattici sì più o meno c'è una trappola lì ci sta la cesta che dite c'è nulla da me no non ci sta ma da camper manco c'è la cesta che ti dici è di solito però ho guardato per sicurezza ma non c'è triste sto zio franco ma ci deve essere qualcosa da dare a camper ho altre pozzette mattine ne bevo una io poi potrei dare altre a te a bella c'è poi c'è già lasciami la trap se vi serve qualcosa non posso spaccato le cose che non danno materiale ho due slot liberi se proprio devo portare qualcosa complimanti ma pure due slot liberi io uno cioè volendo due perché la pistola dina blu non ho un brindian d'oro stagione fuori si feda pinnacoli e ci vediamo che dici andiamo in safe no no aspetta 2 minuti 2 minuti poi è stata no 2 minuti non è metaforico stanno di fronte a noi dietro l'albero uno dietro l'altro è attato è attato ancora hai visto forse aspetta un po' a spararlo gli ho fatto alto a 60 rischio ha capito ma era non siete la collina si può cura possa dire i compagni dovevamo scollinare ecco ecco già che da solo non c'è al campo ecco la fico un trampolo comunque ci arrivano si si è arrivato dietro dove dietro eccolo l'ho visto dietro ma dove dietro c'è domi ci l'ho visto a terra andiamo andiamo sto figlio di puttana sta quello del campo ti copre lui animalo eccomi stavo rispondendo con tre qui spettano in testa 1 a rai tu fai dietro andiamo alla casetta dove abbiamo ucciso quello qualcosa avvende sì aspetta aspetta dammi tutto io vado andiamo con la ricetta c'è il medikit c'è un po' e un po' viola lasciami la trappola aspettiamolo qua no ragazzo 3 non è uno su tre ma te ce l'avete 1 e 8 66 55 di legna e dammi qualcosa lo sai la casa non mi sa che vanno usare il trampolino l'ho distrutto ok 1 ragazzo ha pushato sta pushato sta qua il nostro voltino sì l'ho fatto le scale prima l'ho fatto ora aiutatemi sono diviso ma ragazzo 1 lo pusho tanto sono stato in maria grazie è ucciso a voi arrivano gli assaggi sotto sotto la vicenda di fronte citato a mano porta da 1 fa salti 3 fanno sotto ragazzo non su a marco sto miglio venite 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 non sono sempre quattro sono morto sono morto c'è lo scar no lui va in cifano un po' sì c'è l'altro lì c'è l'altro lì dove stavi sparando sono tutti due 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 a te da quell'altro eh vabbè c'è lo scar sì ma non è possibile non è possibile ora è tra l'attimo nel partito di Alex sempre con lo scar sempre con lo scar che ci vuoi fare anche i one shot quelli con lo scar potremmo i one shot aspetta sto dico 693 vittorie in squad global wins 693 ecco perché ci ha ucciso però almeno quello l'ha messo in difficoltà perché c'era la sif dietro e l'ha ucciso l'ho tramortita Domeni sai quante vittorie in squad aveva quello? no 693 quello che ci ha ucciso però ci ha ucciso serio? sì come è fatto a vedere? praticamente ho visto il username dalla streaming e ho visto la classifica di quello che c'è più kill in squad dei recenti perché ti esce il coso dei recenti quando stai in leaderboard qui? nono l'accombra es is blocca al passgraduit bu e dai sono nel post gratuito non nel post lui fai con la cosa di Twitch collega a cosa di Twitch eh ma io avevo Amazon Prime ci ho provato ah è vero può fare che? per avere la skin di Twitch di là che ho due corpetti a due skin andiamo a parco che c'entra Amazon Prime? boschetto eh sono andato a vedere devi avere pure Amazon Prime devi avere pure c'è di collegare Amazon Prime a Twitch eh a Twitch Prime what a fuck tu l'hai fatto da me no 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 ma non me ne ti viena ce la potrei pure fare tutte ste cose me ne viena skin eh che c'è la me ne viena skin ma è bello almeno sì ma me ne importa niente vado al burger ci va gente? oh vado al burger non quando mai lo vado a sempre il Burger King Burger King no non c'è gioco no godo dove vai al no ci sono no scherzo che ci sta ma la casa con la cuccia no ve AR blu a raffica e stop via l'unico AR che one shot i nemici no seriamente o quell'AR blu 4 entusiasmo uuuu revolver blu uuuu pozzette uuuu oh mitragliatrice oh basta no poi la r verde normale se lo volete ne devo lasciare le bende io c'ho un medici che volete un bende medici tronco leggero 25 bene eh se vuoi venire a prendere no dopo no anzi no mi lavo la mia vita c'è qualcuno no no se non è che non ci fosse qualcuno quombu dove vieni quanti no no mozza grande vado full vita mmm la ragione c'è una pozzetta se la volete c'è il dmr viola io no io no bella la cosa bella da me te la sfora la tua casa all'amico che la full vita la su scudo non c'è niente a noi c'è la pozzetta ne ho una dove ti ho lasciato ti ho lasciato le belle anzi no ne ho quattro no non le ho fatto più le belle forse le ho fatto le belle no no non ho capito devo portare le cose che dici tu fammi capire eh ma se già ce le avevi eh l'ho tolto ho preso le che ho ho quattro pozzette le volete ve le spartite si dame le sbacchi da me io sono io dove stai lu puzza la cosa come si chiama al traticcio infatti sto aspettando le puzze eh lu però a questi morti enti oh venite lu me lo vuoi la rd normale mi dai dmr no dallo a luco eh via c'è la io la rd dmr è stata una casa piccola rd normale dico dammelo la rd normale non c'è la c'è la normale non mi devo sette lu coppia di sniper le avete e il progetto da dmr basta nella casetta piccolo qual'era questa qua non cammeta vuole pozzetti no il materno ma qua c'è la macchia c'è la cia come che c'è la cosa ma è mica ci stavola non so andare alla pescheria non so ma torna matti tese bozzette no non con l'ultimo passato dalla peschiera non c'è nessuna pescheria non c'è nessuna pescheria atto matti l'attrottima dalla peschiera fatti no s'andato nelle nel caso in mezzo dove sta la cassa intorno a un po' questo pure si distrugge dopo un botto si ma non ho trovato qualcosa del lutto in lama si si è una volta si io zero mattini qua ti ammoccio i materiali e degli occhi giri sediti c'è un tronco dai occhi cosa c'è una pozzagrande a portare la la mitalletta briola spazio che il tuo scarlo portò il mio scarico che la può portare la pozzagrande io io luca oh dove fate dire luca la mia gesta da luca mi gesta con la mitalletta ieri con la partita di ieri colonia c'è da sopra con la mitalletta blu e la tutta la vita perché state così lontani che noi siamo nomadi mi sono l'ultato nomad quel nome c cosa ma ti hai conto che se tu metti il tuo nome al contrario e domi di dom domi io ti ricordo eh sì non ne ho fatto nemmeno casa cioè non l'ho detto così apposta dunque raga matti che dici ce la faremo a fare una tool di trappola per la sfida prima o poi non ci credo non ci credo non ci credo io c'ho l'idea però del secolo che fa questa sfida matti ma sai che lui mattina non ha mai giocato col server in oceania ci incontriamo contro matti non l'ha mai fatto che casa schifosa si è spettacolare veramente matti ti metti oceania e salchiamo allo stesso momento una partita in singolo che ci possiamo incontrare nella stessa lobby ma è sicuro non è la prima botta è la prima botta eh quante volte ti è capitata? è la prima botta è la prima botta ogni volta che saltiamo saltiamo assieme quella stanno sennò uno o due server vanno fai tatis e infatti tipo alcune volte ma non so che adesso gli altri facciamo 2v2 in oceania lagga un po' aver che in effetto eh matti ecco questa cosa potremmo saltare una partita in un singolo da soli cioè assieme boostare gli abiti e potremmo fare le kill di trappola ma vi rendete conto che ma scusami no quante connessioni hai in oceania? mi serve veloce eh ma buona vedi male non la capo dei colpi entrano dopo matti eh grazie che entrò dopo eh bo però intanto giochi assieme ho già che assieme giochi contro vecchi meno venti vecchi eh però matti con sta cosa potremmo fare le kill di trappola eh ma è in città non mi piace no ma come balli di camminati altra no mica ti dicai ti devono bannare ti devono segnalare quelli che giocano con te già senti io per il posto ma che le bestie sei sicuramente grazie io no io senza materiale non ci so giocare si mi dai dammi una pistola e tutti i materiali vinco la partita se mi dai tutto il loot più bello del mondo senza materiale è inutile mio ah ma mia luca che cazzo non sei come un ambientalista proprio a zero rispetto per l'ambiente per l'ambiente che cazzo l'ho letta da volentano no l'ambiente l'ambiente cos'è no dimmi che non ci sta manco una cesta perché si chiara bocca ha ricevuto il tuo messaggio ha mandato un cuore che ha risposto grazie io seguo il suo lavoro ce lo seguivo ma do io ho passato a dire adesso ho fatto 2 video in cui c'erano 5 fonti dlc di world world 2 amici sei cosa 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 frate come se lo vediamo separati dobbiamo stare un po' più inizio ma se ne tutti insieme con un comando perché scatto di mondo faccio degli scatti di faccio degli allunghi di la albid in telepost si mi sono teletrasporto un bravo ma fa pure mattino no mattino lo shoppa sexy da matti se in giallo sexy da matti 8 euro sexy si matti costa 500 ma com'è quello che vuoi capire ti butti per terra esatto ah quella su guarda che uno lascio ora poi so poi non preso mi soffa il nostro dietro 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 qua ok dove 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 dire l'albero dove dietro ho detto ho preso eh grazie guardate io stavo per fottere io quindi io te lo fotte a lui te lo fottevo io non cambiano vedetevi la pozza grande eh raga io la pozza lui dove i pranitiati io c'è una pozza grande la c'è il medikit ok bello me la prendo anch'io le pozzette le posso le pozzette le posso portare io ok aspetta le pozzette le posso io le pozzette le pozzette le pozzette la porta a porto alle beni che c'è tre mediti le pozzette le pozzette un altro pompa verde me lo becco colpi di pompa ce ne avete ma ti lascia la metrietta viola si è da 73 eh lo so to poi il doppio pompa quali doppio i proiettori così il doppio pompa c'è il dolore grande ahahah cosa sono pazzo lascia la vita del tagaro oh lui ho provato il no scoop non c'è il cicchino in mano si approcciò il cicchino parolo qua vediamo se l'ultimo il borgos bislacco perché c'è un uomo di 6 ma sono borgos bislacco eh non è fuori 6 no eh l'ultimo eh ci credo eh sono fai stanno sparando fai tato sono fai tando vediamo se stanno qua veniti sono fai tando risenti eh si sono di qua stanno poco arando ho capito però stanno fuori 6 stanno fuori 6 ma sono questi di fronte a me scusami ma quali sono matti ma solo dove li vedi? ando in safe eh minchia no non sono loro figa sono tutti davanti forse stanno lassù e questo quale scale verso l'infinito si ma andiamo in safe stanno arrivando la 6 sono loro quelli che stanno si ma ragazzi è inutile che ci andiamo stanno arrivando la 6 però ci ritroviamo dietro hanno taggato l'airdrop ah ragazzi lo qua davanti uno venite eccolo non solo eh si c'è il cecchino vai ma gli spavano c'è un altro c'è anche un altro dietro si l'ho visto c'è il fucile dmr ah grande domi grazie sta fuggendo sono in tre sono due sono due dietro l'albero oh madonna si è manittata raga pure da sinistra dietro l'albero sta fatta l'albero saltato no ha saltato andiamo raga andiamo che c'è una terra come sinistra ma sono a terra andiamo se sono queste scale andiamo veloce dove stai a stella sopra veloce raga dovete busciare si sta arrivando no sono a morire st stanno in casa raga te che cosa vero eccolo attento ok fanno gli altri sicuro eccolo bello bello sta qua sta qua sta qua vedi trovo il sole eccolo eccolo è un fortino fattato 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 preso bello raga mi date un pozzino stanno assorando col cecchino stanno qua le pozzette domitano il popo viola è il mio tene da due tini non ce l'ho 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 ok allora me le posso ripare stanno sparando col cecchino raga mi date un medikit ne ho le bende se vuoi no facendo stanno sparando te lo dico io da dove da 2 71 ovest dove dove vieni vieni qua aspetta oggi dietro dietro ci hanno bussato sono morto sono morto no si ma ci hanno bussato quel coso con la paracadute ce l'ho in faccia raga mattina che è uscito non vedete capito uscito ecce che ero dietro di loro ma c'era uno dietro che stava sparando a mattia invece ha colpito a me che la mia domanda c'è in testa io pensavo paroletone con se fosse i paracadutisti di world war 2 cost stavano 20 persone col paracadute detto ma che cosa sta succedendo scopo alle 4 stermi quindi ultimo si ne avete vinta una vabbè allora lo serve ne avete vinta una non 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 è possibile che ma ti ma ti da vogliamo cerca un attimo c'è anni andriamo due trappole ci uccidiamo ma ma e si dai così magari ma alle quattro davvero non amato in italia ma c'è la partita della salernità non e sia stato giocando io la casa c'è stato in 82 ridi ti ricordi la mattina una volta abbiamo startati in 50 si si però è morto è stato giusto ma lui è morto scherzo ma mattina ne abbiamo sartati 82 segnali 8.1 boschetto hollande 10 team in mezzo grande o boschetto o binacoli no 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 l'allande l'anno l'anno non la casa sassone c'è altra gente c'è un tot di gioco perfetto alla casa c'è un bot di gioco io c'erivo perfetto alla paglia pure eh guarda quanta gente città luca tu devi pensare in positivo solo uno solo uno ma che ce lo facciamo no sono in due ma sono in due dammi no ma sono un'arma no non ci sta no 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 da questo sia la cassa scappa prego dammi un'arma dammi un'arma dammi un'arma no da meno che devo fa' devo acclacciare hanno intato a questo c'è un altro fuori è mattia quello che spara oh ah guarda di voleva non m'ha visto domino ma visto no non mi aiuto no ma non è una piccola è morto eh sì ma non tre no vabbè dai questa non vale anzi mi sono nato dentro vabbò avevo fatto gli escape della vita mi hanno messo sopra la porta che che quelli hanno entrati sono scappato da dietro solo che di 33 come gli anni di colpino bravo 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 però porta fogli ma la poteca rotondol sost questo non e direi di andare a parco cifre per tornare alla data luo almeno tu mi ricordi di quando siamo passi di qua specifico no andiamo a parco dai bambino non mi ha dato non mi ha dato giallo 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 io l'ho buggata un poco mi arrivo alle prime cose raga anna quanta gente c'è no quanta no io arrivo dritto ditto la casa con la con la verde c'è la casa futuristica c'è in c'è due in casa matti ciao domenico io non c'è una foto ok abo malaga no è finita lu no non l'avevo il mio amore per quanto mi ha tolto cancro calce chi il mare o no per l'altro mondo avviene bordo in cagnante arrivo da me posto tempo di benda C'erano questi dalla cesta che ho trovato la palestra Dovete un'arma per me? No Stava pure uno qua, raga, uno qua dentro, esatto, lì C'è un medikit per Luca C'è una... Domici, c'è la mitraglietta Grigia Eh, ce l'ho la mitraglietta, però Allora, ti Allora, me la pio C'è il medikit, dove sta? Ma la mitraglietta è silenziata Sì, quella è silenziata Allora, la teso Sì, godo a reverde Io c'ho quello blu Oh Sì, che è fight? È da l'altra parte Il minuto, lo metto un'altra Mi prende il medikit, in attimo Oh Sei tu che spargo E mori Eh, vedi Non crepo Aspetta da me Sono tutti one shot su Serio? No, c'ho 7 di sotto Il cecchino d'ora, eccolo da matti si sta pushando Eh Sì io ho sette colpi raga dietro ce l'hai mamma mia foto aria i push di giampati in faccia ragazzi un acqua alla un altro non parlano dei conti ma con un materiale c'è uno da me perchè c'è un sacco da attività ma l'età beh però proviamo proviamo no eccoli parato qua assi morto ho colpi gt 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 il volo c'è colpi di arlobo di fronte a non avvergai tutto vi sprendete e non c'è niente che bu pur io se non vedo qualcosa ma io l'arred blu e non lo sai per oro no no sì con il zero colpi coltri ma è nulla te 4 kg ogni cosa che c'è io non ho vita luca avete pozzette ben ma è ben sarebbe e facendo pozzette secondo me non sono finiti ma infatti non sono finiti io non me ne ho uccisi tipo altri due qua ah io pure due io ho uno cioè ma io ho 4 qua mi sa che già luce si andiamo ora c'è il DRMR cosa se lo volete no io ho il C4 c'è te colpi di cecchino no non so quelli di aereo se dicio da se dicio cdc quanto vuoi di aereo attenzione di marlin marlin anzi aspetta ora ma eh non niente paler drop lì ma in mezzo al lago non ci vuole vado dal distributore guarda caciuto che si sta a fare una scala altissima guardatelo ci vuoi suicidare aspetta se lo prende col cecchino nooo e da ma guardate la kill se tu lo fai cadere si vabbè vale come una kill da un botto infatti mi sono preso la kill faccia l'ho fatto ah mi basta cazzo avevo quello vado niente perchè si voleva suicidare eh ma avrà avuto qualcosa al minimo la pistola grigia semia mo vedi cioceva la scaroro ah di tutto e di più eh almeno aveva un po' di materiale WTF non c'è niente a ecco ecco è che c'era qualcosa vedo pure qualcosa di viola no tua madre che c'è? si c'è qualcosa di viola ma ha poze? c'è una anna la visione viola si dammi la pozzetta è una è una pozzetta 4 poze mi date un po' di poze se c'è un altro pozzetta per vedere l'anno già c'è da vestiti mi è occupato si vede ora perchè c'è un'ottima una mela ma sta stasera ma il bicchiereate con la mela oddio no vediamo in bocca no vai no quanti perché stiamo alla pinna col da solo sto scappando la pinna sta vincendo c'è da lì sto scappando spando oddio c'è una destra non ho visto ma dov'è? che faccio la gali di sparo ma c'è la mia destra c'è la mia destra arriva 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 cioè di fronte a te da erano ah hai visto eh sta qua aspetta provo a cerchino arriva 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 quasi tanto oh cacchio ma non ho scuogliato oh 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 io non ho scuogliato ma io non li vedo stavo dietro il monte mi vedi? mi sono morto non non ho animati che voglio alla 6 sono morto ecco mi sono appucciato eh mi ha persi dove sono? ah infatti sono stati sul monte sono valuta ma no eh sono troppi matti ma perché dove stai matti? c'è pure un altro team avanti scappati c'è un altro team la c'è sta eh vabbè 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 sono� dead c'è uno dietro il teams fatamatico la la 참 la marzo sa volta c'è stato scappa ma c'è stato no ha fatica interessant m molesto Almeno rovina le partite altrui Lo mando a cogliere l'oliva Piatti il cosa Guardalo Guarda la safe quante No non è lontano Una cosa Che cosa Matti? E' quasi qua Non li vedo mi faceva Ecco li stanno di fronte a te Matti ce l'è davanti Di fronte a te Stallute Stallute Bella stamira Bella stamira Oh Sazione Senti Michelo Senti Michelo Stai qua a destra No a destra 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 E' usi già a sinistra E' sceso giù Matti a buon Avanti e fai Ma te li trovi davanti Sono 47 E muori C'è uno Quanti dito C'è uno dietro Faccio C'è No 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 Per Oh Ciao Una parola Chiudo sbarrati Sbarrati Stareali Ah Mo ce l'hai Ma io ci vai alluta a quell'altro ma Che è ucciso scusa Sotto Sono giù Ah Quello Giù L'occupano Non mi O Oh Rami Lutti Cicco vede che era proprio il mio eppure la re blu era il mio forse quello che mi ha ucciso, si c'è il cecchino d'ora, l'arr blu ma sono random ce la fai matti dai dai dov'è l'altra safe? cosa stai facendo? la favore sa il trampolo però non fa già male, cioè muoviti oh, cosa ti... ma no stavo cadendo alzati oh ci godevo vabbè matti ciao poi piglia il monte in faccia bello sto lancio dai dai sei arrivato devi correre ho usato un trampolino per fare 10 metri di più è una canzone unicina epica no perchè sennò dovevo superare il ponte il monte il monte, il monte, il monte ma ti hai due a drop davanti scegli tu se prendi un'ecolo in sinistra se mori a sinistra a destra ma il dubbio va in mezzo a morire ti faccio, questa è l'ultima poi quando muori spengo quando chi lo abbiamo? ma ti sei com'è? la tempesta non ti conviene molto cioè ferma ma sto qua è lenta ma c'è che moglie le ho una cecchina da 482 metri si si così 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 moglie direttante eh tanto un colpo di cecchino la musica epica qua ti dico un muscolare e non può non può farla e non può non averlo a destra tu amati la stanza si quel complesso di casa chi è che ha messo musica epica? io luca sui famigli questo complesso non si sono qua ma mi bannano le stream all e shit questo è scassissimo quando c'è scatto quello la cazzo mattia l'ha visto vuole pushare non l'ho visto tazan verso smattia alla sinistra ma cosa stava alla pushare ma è scatto sta dentro stato ecco un altro era un tazan lui eccolo sta fuori sta qua fuori stato al guatt ex pompa viola ci mette una pezza ancora non è a nulla buono un po di cure ce l'hai e ben sincero e curati è amato curativo si lo guarda se che dici a mattina ma io la sifo ma io è meglio lontani un secondo poi appena un colpo di luison da 800 metri fanno un colpo di fa mentre è un po più lontano alla 6 lo sai che se provi il tasso grande poi vede la scena adesso anche se siamo che esiste ma lo so vedi a fammi andare un po più vicino e poi colpisce matti 892 metri e hanno scherzato 7 kg sono 14 vivi e 5 kg poi sono morto all'inizio qua è beccato a 100.220 nemici per me il mattex se la porta a casa anche se ecco il contro del team da solo tira sentenze guarda anche se con il team da 4 eccolo lì ma ti sei uno che si stava curando dove a tirosido che stava prendendo le bende dietro di te qua dentro si dentro il cespuglio mi sa quindi un po passaci no allora la te dentro la casa mattia sito forse che si vendava pure tu e si dopo le tu no perché si vendava c'è una ma mattina lo fa matti se gli spari sei morto che ti stico di essere comodo un certo lo guarda lì mi leggo di un lombro però quella c'è chi non ha tagliato le da intenzialmente io no non gliela tirerai io sì ma poi l'alta lo sapevo lo sapevo era scontato in realtà si è spostato in avanti è ancora peggio era scontato cos'ho visto uno ha preso 24 gli danno cadendo cioè cos'ho dato il danno che è bravo matti sale qua sopra così hai una vista parabolica bravo matti così così ti voglio mo cadeva di sotto ma dov'ha questo con uno pito di fai tanno finito di fai tanno ma non credi dov'è ah sì c'è matti se ti stai fermo bravo là dovevi dire un mura che si costruisca eh sì grazie qua un po' c'è resta un altro no c'è il trampolino c'è un trampolino qua pusha così proprio così ciao matti ciao poi c'è una canzone epica come molto non ho capito è esploso serio a me ha laggato un toss dai io vado io cioè io spengo la strima la streaming grazie a te